Buongiorno a tutti, sono a Como Borghi, la prima stazione di Como per il nord Milano, la successiva è Comolago, termine corsa, anche questa stazione come vedete è com'è tenuta anche il piazzale, tenuta benissimo, curatissima, il piazzale è una pianta, immondizia non se ne vede, dopo vediamo un po' l'interno del bar, questa è la prima stazione dopo il Como Lago, qui sparano ancora credo che sia con la Capodanno, Siamo alla periferia di Como, il quartiere non mancherà tanto a Como Lago, dopo ci vado, c'è un sole fantastico, e basta, dopo vi faccio vedere, queste sono le stelle del fabbricato, e vi faccio vedere la parte dei binari, come le fiere menore tengono, vedete anche i graffitti sono appena stati tolti, come tengono decoroso le linee ferroviarie, le stazioni rispetto allo schifo, qua, di moltissime, troppe stazioni di RFI, grazie a tutti, non voglio essere lungo, perché provo qui c'è la ricarica, dei lici, ok, grazie per la revisione, salve, dopo faccio la seconda parte, il lato interno, salve!